La nuova GFina Letizia Petris è stata fortemente attaccata dall'ex fidanzata e dalla sua nuova compagna. Cos'è successo? Nella prima puntata del Grande Fratello andata in onda lo scorso lunedì, 11 settembre, sono stati 15 i concorrenti che hanno varcato la famosa Porta Rossa per iniziare la loro avventura all'interno della casa più spiata d'Italia. Tra questi, troviamo la fotografa Letizia Petris, il cui nome era stato già annunciato qualche giorno prima dell'entrata da TV Sorrisi e Canzoni. La 24enne romagnola ha deciso di fare questa esperienza per dare una svolta alla sua vita, in cerca di una vera e propria, rinascita. Ma, pare che ci sia ancora una storia nel suo passato rimasta in sospeso. Di cosa si tratta? Come spesso accade nei primi giorni di convivenza, i concorrenti si stanno aprendo tra di loro, cercando di raccontare le proprie storie di vita. A tal proposito, Letizia si è ritrovato a parlare con la chef Rosie Chin, alla quale ha svelato di essere stata fidanzata con una ragazza quando aveva 17 anni. La ragazza in questione si chiama Nicole Conte e, sebbene sia stata una storia importante, per la fotografa ormai si tratterebbe di un capitolo assolutamente chiuso. Di fatti, oltre ad essere passati più di 7 anni, Letizia al momento avrebbe ritrovato l'amore al fianco di un ragazzo di nome Andrea Contadini. Tuttavia, la 24enne ha raccontato anche retroscene inediti riguardo questa relazione. È una parte finita, conclusa, non mi interessa più, quindi pace all'anima. Ho sofferto tanto per la cattiveria, perché sono stati un branco di lupi contro uno, ha confessato. Ebbene, delle parole forti, che non sono sicuramente passate inosservate alla diretta interessata, Nicole, e non solo a lei. Ad intervenire, infatti, è stata la nuova fidanzata di Nicole, ovvero Francesca Frigeri.